Cari fratelli e sorelle, Dopodomani ricorre la giornata mondiale del rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite. Il tema di quest'anno è Con i rifugiati, oggi più che mai, dobbiamo stare dalla parte dei rifugiati. Questo è il tema. L'attenzione concreta va a donne, uomini, bambini, in fuga da conflitti, violenze e persecuzioni. Ricordiamo anche nella preghiera quanti di loro hanno perso la vita in mare o estenuati viaggi via terra. Le loro storie di dolore e di speranza possono diventare opportunità di incontro fraterno e di vera conoscenza reciproca. Infatti, l'incontro personale con i rifugiati dissipa paure e ideologie distorte e diventa fattore di crescita in umanità, capace di fare spazio a sentimenti di apertura e alla costruzione dei ponti. Grazie. 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 Grazie.